Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video ASMR Non vi nascondo che mi piace un sacco filmare questa tipologia di video dopo l'altro che ho fatto e voglio ringraziarvi per i tantissimi consigli, le tantissime tritte che mi avete dato riguardo questa tipologia di video mi avete detto di usare luci un po' più suffose, quindi ne ho spenta proprio una così abbiamo un po' un effetto ombra e cerco di tenere il microfono un po' più lontano e mi avete detto di parlare più piano e di muovermi più lentamente quindi cercherò di venire incontro e di migliorarmi in questa tipologia di video perché è una tipologia di video che mi piace tantissimo quindi voglio continuare a farla, mi diverto proprio oggi però io cercherò di stare calma ragazzi, cercherò ma oggi andremo a leggere i commenti quelli più crudeli i commenti degli haters più cattivi, ok? quindi andremo a leggere i commenti che più mi fanno stare male e voglio ringraziare gli haters, mi sembra giusto, mi sembra giusto perché mi danno sempre tantissimo, tantissimo materiale da poter utilizzare in questa tipologia di video quindi grazie anche a loro insomma inizierei con il primo commento scritto da, se lo sentite c'è Cato Denver non è colpa mia ragazzi, Cato Denver sto cercando di filmare un smr Cato Denver speriamo funzioni con Biolica mi scrive inascoltabile 30 punti scrittivi non so cosa tu abbia fatto ai denti superiori perché devo per forza aver fatto qualcosa ai denti superiori cioè per forza, lei lo sa veneers, impiantologia e puntini ma ti danno un effetto patata in bocca è una brutta pronuncia delle C mentre parli fastidiosissimi altri 30 punti scrittivi senza contare il tono di voce troppo alto ed eccessive smorfie ma contento che ti segue io passo volentieri oltre G ci stava ragazzi scusate allora vorrei dire a te cara G cara Biolica che numero uno non ho fatto niente ai denti non ho fatto neve neers che penso siano tipo gli apparecchi trasparenti ne ho alcuni impianto ma impoccano perché devo aver fatto impiantologia io non lo so io rimango passita vi giuro mi dispiace che a te i miei denti non piacciono ma sono i miei denti a me piacciono e mi dispiace che non ti piaccia la mia pronuncia delle C che tu definisci brutta e tutto quanto lo definisci fastidiosissimo io ti consiglio prossima volta invece di perdere mezz'ora a scrivere tutto sto paradamme semplicemente clicca la X in alto a destra che fai prima ok? ok proseguiamo con il prossimo commento io cerco di stare calma ragazzi ma questo video capitemi poi me la rito da sola poi sotto il video i miei regali sotto l'albero Marco Rossi mi scrive non hai ricevuto un bel calcio nel mi auto praticamente mi auto pippo cioè mi autocensuro beh Marco io ti darei 10 per la simpatia perché effettivamente è un commento che fa ridere però uno come cordialità e come educazione adesso do il commentare ulteriormente scusa 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 non vorrei farti arrabbiare perché evidentemente ti ho fatto davvero arrabbiare in quel video però questa è la mia risposta poi c'è Perenice Perenice che mi scrive dovresti toglierti da youtube con questa voce fastidiosa allora scusa se anche per te la mia voce è fastidiosa tu non mi hai menzionato le G e i denti miei per te possono anche andare quindi già per questo ti ringrazio mi dispiace tanto se la mia voce ti risulta fastidiosa forse puoi seguire i miei smr in cui magari ho una voce in cui sussurro e quindi magari la mia voce non la senti che cosa te ne pare facciamo questo patto io e te Perenice tu apri il video solo quando è un smr altrimenti non lo apri piuttosto che lasciare questi commenti così ok facciamo un favore ad entrambi ok poi Giada Montresor mi scrive hai rotto i co smettila di toccarti i capelli cut allora Giada io quando faccio questo genere di video in cui leggo e commento i commenti degli haters mi rendo sempre conto che c'è tanta gente incavolata c'è tanta gente arrabbiata è proprio che si deve sfogare questa arrabbia tipo adesso scusami Giada se ti ho rotto eccetera scusa non vorrei dirti nulla perché penso tu sia giusto un pelino irrascibile quindi quindi ti dico solo grazie del commento basta giuro giuro grazie del commento basta c'è flaga04 che scrive checca parla di meno flaga04 io posso provarci però sai un video in cui io parlo di meno sarebbe tipo così ciao ragazzi ciao ragazze come state oggi ecco vedi flaga04 io penso che sia un attimino noiosetto se parlo di meno però dimmi tu e magari mi sbaglio magari mi sbaglio anche qua non vorrei far arrabbiare poi Ilaria 1234 mi scrive sotto il video scorso ASMR questo farebbe dormire facca Ilaria ho capito spero che ti sia stato utile nei tuoi movimenti di peristalsi e ti mando un saluto da lontano però da lontano poi Genofan mi scrive e questo ci ho messo un po' a capire se sia un commento di uno hater oppure di un hater di un hater oppure no perché non ho ben capito però mi sembra un commento brutto e mi scrive fai cag a quello che non hai ecco se qualcuno capisce l'esatto senso di questo commento se magari me lo scrive qua sotto così io capisco a naso credo non sia molto soddisfatto della mia tipologia di video Genofan ma non si sa mai magari un complimento ma chi lo sa secondo me no ma baby Angie mi scrive g di orli con 50 i allora baby Angie intanto stai calmo o calma a seconda qui vi vedo tutti molto alterati adesso non iniziamo il 2019 così diamoci su camomigliamoci un attimino che cosa ne dici visto che è appena passato Natale magari lo so lo so non tutti siamo più buoni a Natale però magari un minimo di passo potremmo farlo no che cosa ne dici poi Giorgia grippa mi scrive e quando parli e poi che cazzo urli ma perché tutti quelli che mi dicono che urlo urlano loro stessi non riesco a capirlo non lo comprendo anche qui credo che Giorgia sia un po' nervosetta giusto un po' Giorgia giusto un po' giusto un po' giusto un po' ma magari potresti metterti d'accordo con Baby Angie e parlare tra di voi su quanto io urli ma anche qui anche qui visto che la mia voce sembra essere detestata da tutti io vorrei dire ad entrambi seguitemi nei video smr così la mia voce non la sentite o quasi e poi questo è il mio preferito Tiziana Ricco mi scrive un mare di roba firmata e poi ti vesti di me Tiziana il tuo commento mi ha fatto ridere onestamente quindi è simpatico mi dispiace che non ti piaccia il mio stile lo stile con cui mi vesto però il tuo commento mi ha fatto ridere e poi Andrea con H Andrea Pat mi scrive ma che cazzo fai video di 20 minuti faccio video anche di 40 minuti a volte se ne vedi uno che cosa fai vieni qua e mi spari poi a.molstyle mi scrive tu la fiacchetti che non so chi sia la fiacchetti Carlita e compagnia bella mi dispiace menzionare altri youtuber ma questo era troppo forte avete quasi rotto il bip infettate il tumo però a me è piaciuto questo quasi cioè tu e tutti voi avete quasi rotto il bip è come quando gli americani prendono in giro i canadesi perché dicono che sono troppo gentili questo mi sa molto di commento da canadese perché il quasi è come per mettere le mani avanti per non essere troppo cattivo quindi avete quasi rotto fantastico poi c'è Elena Elebri che mi scrive io giro il mondo ho un cavallo tante case e una barca molto grande e non me ne fo un ca delle borse di me Elena io non metto assolutamente assolutamente in dubbio che tu abbia un cavallo tante case e una barca molto grande però tra tutte queste cose un buon corso di educazione tipo una piccola lezioncina di educazione rispetto reciproco ci potrebbe stare che cosa le dici anche un viaggetto a Oxford per migliorare giusto un po' il linguaggio giusto un po' così magari ci passi con la barca vai con la barca o a cavallo in qualche modo ci arrivi vai a Oxford vabbè mia family questi erano i commenti che degli haters che volevo leggere con voi oggi tra l'altro ho cambiato ogni inquadratura per questa tipologia di video spero vi sia piaciuto questo video so di non essere stata molto dolce nei movimenti e di non essere andata lenta mentre leggevo questi commenti ma capitemi capitemi è un video in cui leggo i commenti degli haters quindi però prometto che migliorerò con gli ASMR perché lo sapete che io sono un po' tramentina e per me è difficile leggere questi commenti in modo paccato e suave ma magari ci riproveremo voi intanto fatemi sapere qual era il commento di tutti questi haters che preferite nella puntata di oggi e quindi questo è quanto vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani no perché sarà il primo gennaio quindi è festa ci vediamo il 2 gennaio con un nuovo video bacio ciao ciao